ciao ragazzi qui è stata il 37 e benvenuti in un video diverso da un walkthrough allora ragazzi quest'oggi voglio far vedere una cosa che soltanto chi ha avuto magia dei siti of lost haven conosce questo trucco cosa succede se noi picchiamo che ne so polio sam o don salieri vi faccio un esempio guardate ci riporteremo tutti quanti contro vai dai ragazzi oddio no 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 dentro dentro e guardate ragazzi vengono ad uccidarsi c'è guardate c'è guardate ragazzi sono morto vabbè ragazzi il video finisce qua in realtà non è un bug e soltanto cosa succederebbe se ci troveremo se picchiamo don salieri negli altri ragazzi un mi piace un commento e ditemi se anche voi sapete di questo trucco un mi piace un commento iscrivetevi al canale se avete trovato la struttura ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie